Un omicidio in perfetto stile mafioso. La vittima si chiamava Giuseppe Di Giacomo, 47 anni, con un passato giudiziario burrascoso in quanto coinvolto nell'operazione antimafia denominata Perseo e nell'ambito della quale era stato accusato nel 2008 di estorsione per conto della famiglia mafiosa di Porta Nuova, poi assolto nel 2011. Ma Giuseppe Di Giacomo era anche fratello del boss storico del mandamento di Porta Nuova e Giovanni, condannato all'ergastolo per mafia e omicidio e considerato uno degli uomini di Pippo Calò. Giovanni Di Giacomo era stato condannato per gli omicidi di Natale Tagliavia e di Filippo Ficarra, vittima della lupara bianca nel 1982. E' stato anche condannato per il tentativo di uccisione nel carcere Ucciardone del boss Gerlando Alberti. La dinamica dell'agguato è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo le prime testimonianze Di Giacomo stava rientrando a casa questo pomeriggio intorno alle 17, quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola vicino alla sua auto che non gli hanno lasciato scampo. Impossibile al momento stabilire se a fare fuoco sia stato un killer solitario oppure un intero commando. Sempre secondo le prime testimonianze il killer si sarebbe poi allontanato a bordo di una moto. Il cadavere è stato trovato riverso sul marciapiede, probabilmente Di Giacomo dopo i primi colpi ha tentato una disperata fuga. Sul posto sono intervenuti il PM di turno Francesco Grassi e sostituti Caterina Malagoli e Sergio De Montis e l'aggiunto Leonardo Agueci, con loro agenti della squadra mobile e il nucleo investigativo dei carabinieri. Il dispiegamento di forze dell'ordine ai blocchi stradali hanno mandato per qualche ora in tilt il traffico nell'intera zona. Momenti di tensione nel luogo dell'omicidio dopo l'arrivo di numerosi familiari della vittima. In questo momento gli investigatori passano a setaccio i presidenti dell'uomo e le sue frequentazioni.